Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in tv sui canali Sky Tutte le premiere, e le librari al primo passaggio sono anche disponibili su Sky Onorevole Demand e Sky Go Johnny Depp e Al Pacino Immensi Interpreti in una vincente mafia movie Arancia meccanica, ore 21 e 15 su Sky Cinema Collection.L leggendario cult di Stan Lely Kubrick con Malcolm McDowell Una doppia verità, ore 21 su Sky Cinema Suspense.Legal Drama con Keanu Reeves e Renee Zellweger Un ragazzo viene incriminato per l'omicidio del padre. La difesa viene affidata all'avvocato Ramsai, chiamato a una sfida impossibile Commedia di Fausto Brizi con Alessandro Preziosi e Matilde Jolie Dopo aver ingerito degli omogenizzati contaminati, il maestro di Un Asilo Nido inizia a decifrare le urla dei bambini Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà, ore 21 e 15 su Sky Cinema Comedy Gerard Depardieu e Caterine Deneuve nel quarto live action dedicato ai due impavidi Galli La regina di Britannia, chiede l'aiuto di Asterix e Obelix per fronteggiare l'avanzata dei Romani Film fantastico da vedere stasera in tv.twilib, ore 21 e 15 su Sky Cinema 4K Un cupo e romantico dramma vampiresco campione d'incassi, tratto dal successo editoriale di Stepeni e Meier Film avventura da vedere stasera in tv.Terry Singat l'ascesa del Falco, ore 21 su Sky Cinema Action I programmi in chiaro.Sopravvissuti, ore 21 e 25 su Rai 1.LA Nave Arianna scompare nel nulla Un anno dopo viene ritrovato il relitto presso le coste africane con solo 7 sopravvissuti legati da un segreto Stasera tutto è possibile, ore 21 e 30 su Rai 2.L Comedy Show condotto da Stefano De Martino Che vede protagonisti personaggi dello spettacolo alle prese con giochi e sfide con le quali mettersi alla prova Presa diretta PNRR Lavori in Corsa, ore 21 su Rai 3.Nuovo appuntamento con il programma di inchiesta di Rai 3 Che prende in esame il tema del PNRR e la crisi economica alla quale stiamo andando incontro Quarta Repubblica, ore 21 e 20 su Rete 4.L Programma di approfondimento condotto da Nicola Porro sui temi di attualità e politica Grande Fratello VIP 2022, ore 21 e 20 su Canale 5.Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del Grande Fratello VIP affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe Colombiana, ore 21 e 20 su Italia 1.Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre Diventata adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, è decisa a vendicare l'uccisione dei suoi genitori Al vertice della tensione, ore 21 e 15 sulla 7.L 28enne Jack Rian, appena entrato nella CIA, deve far fronte a un gruppo di terroristi, che ha intenzione di far esplodere una bomba nucleare Gomorra la serie, ore 20 e 45 su TV 8.L A serie TV ispirata al libro Denuncia di Roberto Saviano, con Salvatore Esposito nei panni di Jenny Savastano Lit Club in Italy Istanbul, ore 21 e 25 su 9.Francesco Panella in un viaggio culinario attraverso tre continenti alla ricerca dei migliori ristoranti italiani nel mondo Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione